Un anno molto difficile ma sono soddisfatto perché abbiamo raggiunto degli ottimi obiettivi andando incontro alle esigenze delle aziende, dei lavoratori e delle persone più deboli. E' trascorso un anno da quando Pietro Quaresimale è divenuto assessore regionale. Importanti le sue deleghe al lavoro, alle politiche sociali, all'istruzione, agli enti locali. Durante quest'anno, ha spiegato in conferenza stampa l'assessore, la spesa del Fondo Sociale Europeo è aumentata del 28%. In totale l'assessorato ha speso circa 100 milioni di euro, di cui 40 per il sociale, 20 per il lavoro e oltre 20 per le scuole. Tra le situazioni più complesse da gestire, sicuramente le delocalizzazioni delle grandi aziende e le centinaia di posti di lavoro a rischio. Sono sette attualmente i tavoli vertenziali aperti. Metteremo in campo delle misure economiche per salvaguardare i livelli occupazionali. Non possiamo fare altro, c'è bisogno anche del governo, però la regione presente farà la sua parte. Un anno complesso anche quello delle scuole, tra quarantene e didattica a distanza. Un milione per esempio uno scanner, un milione per l'acquisto dei tablet per le persone bisognose. È già arrivato un acconto del PNR, pari a 20 milioni per la sicurezza delle nostre scuole. Dobbiamo fare ancora tanto, però vogliamo che i ragazzi siano in presenza, perché abbiamo visto i gravi pregiudizi che subiscono con la didattica a distanza, non solo a livello di istruzione, ma anche a livello di socializzazione e soprattutto va a causare l'abbandono scolastico. Quaresimale divenne assessore a seguito di un rimpasto di giunta, prendendo il posto del forzista Mauro Febbo. Gli equilibri tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, però, in Abruzzo devono ancora assestarsi e presto potrebbe essere messa in campo una nuova formazione di governo. Non mi riguarda, ha commentato Quaresimale. Questo non riguarda me, io penso a lavorare quotidianamente, perché è un lavoro che faranno i segretari di partito. Io al momento penso che dobbiamo lavorare con patti e coesi, perché gli abruzzesi si aspettano molto da noi e noi dobbiamo rispondere con fatti concreti, quindi amministrare e risolvere i problemi della gente.